ma youtube anche io è ripetitivo quante visualizzazioni c'è fatto con quel video molla ciccione grassone ancora non sei morto molla 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 ah 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 la calabria chissacà ah 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 su venitemi a trovà ah 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 la calabria chissacà ah 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 su venitemi a trovare questa cosa mi ha buttato in uno sconforto grave ciao quale città sono io io sono di polzano di polzano di polzano questa legge venga corretta perché è ingiusta allora se uno sta male non si può fare la pipì in luogo pubblico stavo male quindi siete avvisati se mi vedete fare la pipì mi dispiace non sono un fuorilegge ma ho necessità devo cercare di risolvere soltanto per questo ah dimenticavo buonanotte la foce la foce la foce la fo anche io ti voglio tanto breve video per dirvi una cosa se siete corpulenti se siete dei ciccioni e vi trovate in una camera d'hotel non temete di dire io sono grande o come ho detto io sono corpulento e c'ho bisogno di più saponi se voi lo dite guardate quanti ve ne portano questi me li hanno appena portati fatti due conti se non ti facessi due conti non faresti il lavoro che fai ma ne faresti un altro più fine più non più elevato perché tutti i lavori sono aspetta ne parliamo dopo di argomenti privati per piacere non ne parliamo eh buon natale a te buon natale a voi buon natale da youtube anche io buon natale a tutti voi di quale città sono io io sono di polzano di polzano di polzano a distanza di quasi un anno ho perso di nuovo qualcosa ho perso qualcosa ho perso qualcosa pensavate fosse finito qui chi è che mi diceva che ero l'incubo vostro sarò il vostro più bel sogno se sei bello ti tirano le pietre se sei bello ti tirano le pietre qualunque cosa fai qualunque te le fai sempre pietro in faccia tu riceverai così 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 sarà youtube mandami il pagamento pagamento cash e senza fattura mi adeguo anche io vai vedete ragazzi quando fate qualcosa non vi capiscono non è questione di egoismo se io gliel'avessi negata la Fanta ma se io sto cercando di fare il video e mi sono preso sta bottiglietta per mangiarmi due panini e te mi chiedi la Fanta quando io prima ti ho detto cosa prendi tu e silenzio adesso io se il panino in Calabria diciamo mi impincia cioè se dopo non ce la faccio più che cosa mi bevo capito ah dimenticavo buonanotte che ci fai qua che ci fai qua eeeh che ci faccio che ci faccio campo 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 così campo eh che faccio sono venuto in un posto bello dove ci sono cose belle che mi servono che faccio quante volte ve lo devo ripetere dite che mi seguite attentamente e poi ripetiamo sempre le stesse cose per cui io vengo anche definito ripetitivo ma voi siete che mi fate essere ripetitivo se mi giungete con dei regali con delle torte come devo fare io a farvelo capire che non è il caso d'accordo sì ma questa mese che non è una verza questo è un cavolo cappuccio ma che mi hai detto questa non è verza la verza di insalata cruda è un altro sapore questo è un cavolo cappuccio che si mangia pure crudo però non è buono come la verza quando vi radete da voi state attenti ad usare sempre uno specchio altrimenti come me vi potreste tagliare anche le sopracciglia adesso non ce l'ho più che vergogna adesso ho perso la reputazione adesso tutti quanti mi criticheranno surdior quam icari scopulis cioè bisogna reagire più sordi degli scogli dell'isola di Icaro quando vi sbatte il mare bisogna essere cioè insensibili di fronte a chi è scostumato a chi è scopulis